Lasciate che vi dica una cosa che vi sfugge, Dottor Jones. Mentre voi perdevate tempo con giochi inutili, io giocavo con voi. Vi state chiedendo se forse non sarebbe stato meglio trovare una ragione di vita invece di finire qui, morto e dimenticato tra le sabbie dell'Africa. I miti. La storia. Solo modi diversi di interpretare il passato. Millenni di pensieri e credenze dell'umanità. Perduti e seduti. In attesa. Di essere ritrovati. Non puoi sempre scappare dai tuoi problemi, Indiana. Sta a vedere. Nel corso della storia, l'umanità ha costruito in vari luoghi dal grande valore spirituale. tracciando una linea che li attraversi tutti uno per uno intorno al globo, si ottiene un cerchio perfetto. Io ho già avuto a che fare con questa gente. Credimi. Non è stata una passeggiata. Bene, allora. Vediamo se riesce a stare al passo. Come sarebbe a stare al passo? Come sarebbe a stare al passo? Nell'antico cerchio. Ti rendi conto di quanti secoli aveva? Siamo in un'unitico cerchio. Siamo in un'unitico cerchio. Se troviamo la sala di solito. Di l'uomo. A.